Buonasera a tutti, ciao, buon pomeriggio. Oggi seconda parte degli acquisti che ho fatto su Shane, abbigliamento e due accessori. Vi dico intanto che gli accessori da cucina che ho acquistato, quindi il tritaglio, quell'attrezzino per affettare le verdure, lo scolato, cioè tutto veramente fantastico. Sono molto solidi, funzionano benissimo, il tritaglio è una meraviglia, anche lo sfoglia erbette aromatiche davvero funzionale e quindi mi sono trovata benissimo. Ho già cominciato a sistemare anche tutti i miei gioielli nelle varie scatoline e devo dire che sono molto soddisfatta dei miei acquisti. Ho acquistato quindi anche qualcosa di abbigliamento, lo avevo già acquistato come misure, ovviamente io vado nel reparto curvi perché sono curvi, molto curvi e qui faccio fatica a trovare a prezzi rispettosi dei vestiti da tutti i giorni, da andare in ufficio, da stare in casa, da andare a fare la passeggiata che abbiano un prezzo contenuto, quindi dove posso comprare 3-4 magliette e 2 paia di pantaloni senza svenarmi ogni volta. E so che poi se quella maglietta si rovina, si macchia, si buca, l'ho pagata a 10 euro e quindi la utilizzo come straccio. Poi dopo la butto via. Però nei negozi tipo H&M o anche nei vari store tipo Piazza Italia o altro faccio alcune volte un po' fatica a trovare le mie misure perché io sono bassa e cicciottella. E allora ho voluto provare proprio su Shane a prendere qualcosa e devo dire che mi sono trovata bene 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 le ho provate tutte, mi vanno bene tutte, ho soltanto fatto un reso di un pantalone perché mi andava bene come misura però purtroppo alla caviglia aveva l'elastico ed era troppo troppo lungo quindi mi veniva troppo rimborsato e non mi andava bene insomma, non mi stava bene e allora l'ho reso però per il resto ho tenuto tutto. Iniziamo dai due accessori. Ho comprato questa borsettina pagata una sciocchezza eh, simil paglia, simil vimini comunque di quelle che si portano, tra l'altro è anche molto carina, di quelle che si portano per fare la passeggiata e sembra veramente paglia. Però l'ho pagata tipo 3 euro, va bene. Ci si mette solo il portafoglio oppure eh, solo il cellulare che serve per quando si esce di casa velocemente. Questa è la forma qui c'è la sua tracollina, come vedete. Adesso qua sta diventando buio perché mi sa che sta arrivando un tempo a ralla. E dentro è, mia mamma andrebbe in giro anche con questa semplicissima, non c'è neanche una taschina ma era proprio quello che volevo nel senso per 3 euro non mi aspetto di certo che sia. E quindi questo è stato il primo. Sempre come borsettina e sempre della stessa tipologia ho acquistato questa. Questa è un po' più elegantina, diciamo quella un po' più sportiva, color cuoio. Ovviamente è plastica, anche questa 2 o 3 euro. Abbiamo sempre dentro la nostra plastichetta. All'interno è tutta foderata e dietro c'è una piccola cernina con una piccola taschina dove si possono mettere, non so, le chiavi di casa, l'accendino e le sigarette. E nulla. Queste sono due accessori carine, mi piacciono, per quello che costano mi faranno anche la stagione, ma a me va bene così. Poi, vediamo, mi avvicino. Allora, ho preso. Tra l'altro questi sacchettini li trovo davvero molto utili. Io li utilizzo per quando Lucia va agli scout, per quando andiamo in montagna, in vacanza, mettiamo dentro tutte le magliette, le mutande, i pigiami e poi servono anche per riporre le cose sporche perché dove andiamo nella casa autogestita non sempre c'è una lavatrice per lavare. Allora, mi sono comprata questo paio di pantaloni. Sono pantaloni molto molto, cerco di farveli vedere, larghi a palazzo, si dice, non è che io sono molto esperta di moda, comunque hanno la gamba molto larga. Ecco, questi sono gli unici che devo accorciare, ma non è un problema. Hanno l'elastico in vita, e guardate voi la mia vita, e hanno un piccolo incrocio sulla pancia. Sono davvero molto molto carini, cascano benissimo, tutti dritti belli comodi, devo soltanto accorciarli. Poi vi lascio ovviamente sempre nell'info box prezzo e tutto quanto, perché io non mi ricordo, però di tutto questo ambaradan di vestiti, con gli sconti che avevo, che avevo accumulato, ho pagato forse neanche 60 euro o 65 euro, una cosa del genere. E per tutti questi capi mi faccio la mia intera estate, e sicuramente dureranno anche l'anno prossimo, e a me va bene così. Sono comunque della stessa qualità che trovo nei vari negozi, anche qui a Lecco, a meno che non vada da negozi di marca, insomma, però. Poi cosa ho preso? Ho preso questa camicettina che è carinissima, adesso qua la vedete tutta spiegazzata, ma perché non ho ancora lavato nulla. Questa camicettina, che ha lo scollo così un po' quadrato, la manichina a sbuffo, è 100% cotone, e questa è leggerissima, e penso che sia perfetta per l'estate o su un jeans, o un jeans leggero, perché poi ho jeans d'estate e non ne riesco molto a portarli, a parte che ho un pantalone che non mi piace moltissimo, forse perché, oh mamma, forse perché appunto non sono filiforme, ecco, preferisco pantaloni morbidi di cotone, comunque con un pantalone blu, un pantalone color kaki, sta benissimo, mi piace davvero tanto. Veste bene, è di cotone, quindi spero non si restringa tantissimo. Con le misure io appunto mi sono misurata, ho guardato le indicazioni che c'erano nelle taglie, nella tendina che scende dove ci sono le misure, e devo dire che come magliette mi sono trovata benissimo, anche come pantaloni, a parte quel pantalone appunto che ho dovuto restituire perché era troppo lungo e non mi stava bene come modello, ecco. Poi, vabbè, questo lasciamolo giù. Altra magliettina, io sono quella dei colori tranquilli, normali, non è che io vado, non è che mi posso permettere chissà quali colori. Questa, molto carina, blu celestino con i pois bianchi, con questa manichina molto carina a volant, volan, volan. Io non amo lo smanicato, anche perché alla mia età non me lo posso più permettere, diciamo ce l'ho chiaro, e questa è una bella via di mezzo per quando fa caldo. È davvero molto molto carina, questa è ovviamente sintetica, ha il bottoncino dietro, sulla chiusura, e mi piace molto. Anche questa, con un pantalone nero, con un pantalone bianco, con un pantalone blu, sta davvero molto molto bene. Poi, altro pantalone semplicissimo, nero, leggero, con l'elastico in vita e la culissa, questi li prendo anche per stare in casa perché sono tipo tutte, sono veramente molto molto comodi. È leggerissimo, ha anche le taschine, quindi direi che è perfetto. Scende giusto giusto, ed eventualmente si può anche risvoltare, perché adesso vanno anche di moda i pantaloni risvoltati, però questo è proprio giusto, mi arriva alla caviglia. Io scelgo i pantaloni che alle modelle, che ovviamente sono più alte di me perché sono alta un metro e cinquanta, arrivano più o meno a sopra la caviglia, in modo che a me arrivano giusti e poi eventualmente me li posso risvoltare. Infatti poi c'è un pantalone palazzo che praticamente alla modella arrivava a metà polpaccio, ma a me è perfetto, arriva alla caviglia. Qua ci sono pantaloni semplicissimi, con le loro taschine, vi ho fatto vedere il rovescio, non importa, con le loro taschine vanno giù un po', non sono larghi a palazzo ma sono comunque molto morbidi e questi, i colori dei pantaloni sono sempre blu e neri color gine, perché io vario. Poi, questi sono i famosissimi pantaloni palazzo che vi dicevo, vediamo se riesco, oh scusate, ad andare un po' più indietro. Allora, sono sempre con l'elastico e la culissa in vita e sul fondo hanno una decorazione con questi fiori e dei pois e mi piaceva così perché era abbastanza estiva, mi è andata di fortuna perché non sono da accorciare altrimenti avrei dovuto restituirli perché tutto il decoro se ne andava e infatti ho proprio scelto quel modello che arrivava a metà polpaccio alla modella in modo che a me fortunatamente arriva alla caviglia. E con questi pantaloni ci ho abbinato una magliettina, anche questa è misto cotone, di questo color da noi, quel colore qua lo chiamano trasso e de choc e non ve lo traduco perché è una cosa non tanto bella, però dà proprio l'idea. E è particolare perché è molto semplice e ha qui sul fianco un piccolo nodo, quindi cade bene bella larga con quella piccola decorazione, chiamiamola così, comunque scollo rotondo, molto semplice. E questa richiama un po', vedete, adesso ve lo faccio vedere, il colorino che c'è qui all'interno, quindi secondo me ci sta bene. Ok. Poi, ultimi due capi, questa che mi piace tantissimo, bella, è questa maglia simil sangallo, molto molto morbida, bianca, dove ha queste, non so se voi riuscite a vedere, è così, è davvero qui, perché ogni volta che avvicino alla telecamera, la manichina è particolare perché anche qui ha questo piccolo volante alla fine, la trovo veramente molto molto fine, ed è davvero fatta benissimo. Scende normalmente, adesso ritorna la luminosità, speriamo, e nulla. Queste, anche questa mi piace molto, anche questa sta molto bene con questo pantalone che ha comunque il richiamo bianco, quindi anche questo è un completo. Mi pare, ultima maglia, esattamente, un po' più sportiva, magari anche da tenere in casa, è questa, con le scritte, semplicissima, con la manichina che ha un piccolo orrino fermato qui, cade morbida, nulla di particolare, queste sono quelle maglie anche che si mettono per andare a fare una passeggiata o comunque per stare in casa, è nulla. E questi sono tutti i miei acquisti di Shein. Devo dire che mi piacciono, sono soddisfatta, sono contenta, adesso non vedo l'ora di lavare tutto, perché da ieri è cominciato un po' il caldo, nonostante i temporali pazzeschi, stanotte ha fatto un temporalone micidiale, adesso sta tuonando, quindi probabilmente arriverà il temporale anche stasera, ma va bene così perché ci rinfresca e hanno detto che nei prossimi giorni invece ci sarà brutto tempo. Bene, spero di essere stata veloce questa volta, spero di avervi fatto vedere qualche articolino carino, come dice la mia amica Ilenia, sì, penso sia così, le perle di Daphne, andate a spulciare ben bene, perché magari ci sono delle cose che come gusto non ci piacciono, ma se si guarda bene si trova sempre qualcosa di carino e devo dire che per me è stato così, sono davvero soddisfatta dei miei acquisti, ho speso poco, nel senso che ho preso quanti capi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 capi, ho speso mi pare sui 60 euro, è vero che avevo degli sconti, però adesso voglio dire, ci può stare, ah no poi avevo anche le borsette, è vero che costavano poco, ma avevo anche le borsette, nulla, questo è il mio video di oggi, vi ringrazio per i commenti, come sempre che avete lasciato all'ultimo video, qualcuno mi chiedeva che aveva voglia di vedere i miei lavori, sicuramente sarà una tipologia di video che farò, perché ho comunque ricominciato, mi piace condividere queste cose, il modello da scegliere, quello che è finito, quello che è da iniziare, non avrà una cadenza come i video che pubblico ogni settimana, perché chiaramente per finire una coperta all'uncinetto ci vuole tanto, per finire un ricamo ci vuole tanto, per iniziare un maglione e per finirlo ci vuole del tempo, però sicuramente faranno ancora parte della tipologia dei video che pubblicherò, anche perché questo canale è proprio nato così, con i primi video di maglia e poi pian piano le idee sono uscite e ha cambiato un po' direzione, ma è comunque tutta creatività, tutta parte di creatività e delle cose che mi piacciono comunque fa parte di quello. Nulla, io penso di aver finito, vi ringrazio, vi saluto, vi auguro un buon weekend, se riuscirò a pubblicare questo video sabato, altrimenti una buona settimana, se lo pubblicherò domenica e ci sentiamo a metà di settimana prossima, perché lunedì andrò a Genova a trovare la Stefi e a incontrare Fabrizio e quindi sarà una bellissima giornata, anche se danno pioggia. Noi ci risentiamo prossimamente e a presto, grazie ed un bacione, ciao!